Si avvicina l'adozione del nuovo piano regolatore generale che andrà a disegnare l'aspetto urbanistico della Fano del 2030, facendo sue le indicazioni di Orizzonte Fano, il piano strategico della città. La richiesta fatta dalla cittadinanza durante i molteplici appuntamenti di avere un contesto collettivo fruibile e continuo in cui vivere e crescere e si articola in una serie di progetti specifici. A mettere ordine nella redazione del piano sono gli schemi direttori, chiavi di lettura individuate sulla base di stimoli di portata urbanistica contenuti nel piano strategico. Ogni schema descrive come, in uno specifico ambito, obiettivi e metodi possano essere implementati affinché il nuovo piano regolatore sia in grado di muovere il cambiamento della città. Il primo schema è stato definito nel espandere la città storica. Un centro storico che viene valutato nei suoi spazi pubblici, in particolare quelli che consentono di accedere al centro storico o di espandere questo centro storico ad esempio verso il mare, sui due viali importanti verso il mare. Un secondo è lo schema direttore relativo all'asse dei servizi, che prende in considerazione l'asse stradale che unisce il polo sportivolo della zona trave con l'aeroporto. In questo asse i progettisti ci dicono che sarebbe importante potenziare la mobilità lenta, quindi la possibilità di attraversarlo a piedi o in bici in modo sicuro e anche qui si propone un progetto di suolo, cioè che tipologie di materiali, che regolamentazioni adottare sulle soste o sulla viabilità. Il nuovo piano regolatore fa propri i valori del progetto Città dei Bambini che intersecano così il piano di tutte le tematiche. Noi immaginiamo di migliorare, stiamo lavorando per migliorare la fruibilità ciclopedonale sicura dai quartieri alle scuole ad esempio, magari immaginando anche delle aree dove i bambini possono fermarsi o magari in rapporto anche con i pubblici esercenti, delle situazioni di accoglienza per i bambini che vogliono fruire della città da soli, insomma in qualche modo. Inoltre per valorizzare le frazioni sarà necessario garantire accessibilità e spazi e servizi pubblici, rendere inoltre efficiente la viabilità, soprattutto negli spostamenti verso le altre parti della città, uno sguardo poi alla vocazione turistica della zona sud della città di Fano. Perché Fano Sud ha una vocazione, una potenzialità turistica non solo legata strettamente alla costa ma a tutto il paesaggio, anche collinare, che deve essere attentamente studiata sia nel paesaggio collinare sia quello agricolo per garantire e rafforzare questa vocazione turistica.